Porta, e io sono subentrato quando l'ultimo sarebbe finito, in quanto è stato circa tre mesi fa, con il suo nome, lui è tra e sta fuori. La neve scende giù, sui tetti delle case, si accendono per noi le luci nelle strade. La gente tira il fiato, tante grazie e meno male, eccolo qua in avanti. La radio passa già, le canzoni di Sinatra, è come una promessa.